Fridays for Future Per riportare l'attenzione sull'emergenza ambientale, piaga planetaria ormai impossibile da ignorare, i ragazzi del movimento, fondato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, hanno incontrato i rappresentanti del Consiglio regionale del Piemonte, dopo aver manifestato pacificamente davanti Palazzo Laskaris. A ricevere la delegazione, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il componente dell'ufficio di presidenza Giorgio Bertola e numerosi consiglieri e consigliere. I portavoce di Fridays for Future, Luca Sardo, Marco Gautero, Valentina Moro, Laura Vallaro e Sara Verzi, hanno letto un appello per chiedere che anche il Piemonte, come hanno già fatto Liguria, Emilia Romagna e Toscana, si impegni a rispettare gli accordi di Parigi, che prevedono di dimezzare le emissioni entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050, per limitare l'innalzamento globale della temperatura a un grado e mezzo entro il 2100. Innanzitutto abbiamo chiesto di dichiarare lo stato di emergenza, che deve essere un punto di partenza, non di arrivo, e quindi da questo devono seguire azioni concrete. Abbiamo chiesto di diminuire le emissioni di gas serra entro il 2050, pensiamo che sia troppo tardi, lo dicono anche gli scienziati, perciò abbiamo chiesto che le emissioni vengano azzerate in tempi brevissimi. Chiediamo che vengano inoltre fatte scelte per ridurre le emissioni, l'impatto ambientale che un ambiente grande, uno spazio grande come la regione del Piemonte può avere. Il Presidente all'Asia ha ricordato l'opera di sensibilizzazione già attuata per ridurre l'utilizzo della plastica e ha annunciato una seduta aperta del Consiglio regionale. Il Presidente della Commissione Ambiente, Angelo Dago, ha promesso di mettere la questione all'ordine del giorno. Nelle prossime settimane verrà iscritto all'ordine della Commissione, alla quinta Commissione da cui sono Presidente, una discussione con tutti i consiglieri presenti in Commissione per poi aprire e fare una discussione, un consiglio aperto il 15 ottobre. Siamo fiduciosi che si possa giungere a un documento trasversale a sostegno dell'energia pulita che segue un principio di giustizia climatica, hanno concluso i ragazzi di Greta.